Conferenza stampa indetta dal Vicepresidente Le strane colonne che sono apparte in cielo nelle ultime ore, nonostante la preoccupazione del governo italiano Si non indica a mantenere la calma Il Vicepresidente comunica inoltre che è stato E' stato un piano di evacuazione per l'intera nazione e che nelle prossime ore assisteremo all'abbattimento totale delle colonne, senza Il Vicepresidente comunica inoltre che è stata Il Vicepresidente comunica inoltre che è stato